Vieni qui a Saltalbero e ti senti subito come il signore della giungla o il signore delle querce in questo caso. L'attrazione principale sono i percorsi acrobatici sugli alberi adatti a grandi e piccini. Possono coinvolgere le famiglie e gruppi di amici. Saltalbero è un'area dove trascorrere una giornata all'aperto e fare qualcosa di avventuroso in completa sicurezza. Ingresso al parco a pagamento. È presente anche un'area sosta per i picnic che è un barco.